Grazie a tutti Tempo di risposte, quindi si chiamerà hashtag TheGamer800 e Tempo di risposte Proprio a dire TheGamer800 e Tempo di risposte, ma quando c'è le teste risposte? Proprio così ragazzi, una cosa originale che ho trovato, senza copiare da nessuno Se voi vedete su Youtube non c'è nessun fact time che si chiami così E ragazzi, mi raccomando, fatemi le domande qui sotto Domande carine ragazzi, belle, sul canale, su di me, basta che non sia né troppo personale Domande proprio stupide, sapete voi ragazzi, mi aspetto, belle domande da voi iscritti Visto che mi seguite sempre, mi supportate Mi raccomando, lasciatemi a meno, che ne so, 10 domande Così poi ragazzi, nel prossimo video, perché questo è quello di annuncio Nel prossimo video, che sarebbe il secondo episodio Risponderò alle domande che mi avete fatto sotto questo video Va bene ragazzi, così anche noi avremo il piccolo spazio dove poter rispondere alle domande Cioè io ricevo le domande e io vi rispondo Ragazzi, non so se ve lo sapete Ma ultimamente sotto le reaction video sto lasciando sempre i link di Facebook, Instagram e Twitter ragazzi Anche se non li uso tanto però i link, se mi seguite anche lei I link dei miei video arrivano anche lei, arrivano su Twitter, su Instagram posto le mie foto E su Facebook condivido i miei video e magari metto anche post Quindi se mi volete seguire anche lei ragazzi, sarei felicissimo Visto che ve l'ho detto anche in qualche altro video fa, nell'altro vlog Che se volete ragazzi, mi potete tranquillamente aggiungere, non ci sono problemi Possiamo anche chattare, non c'è nessun problema Dato che voi siete miscritti, perché dovete essere solo iscritti? Possiamo diventare anche amici diciamo Allora ragazzi, niente, stanno succedendo un po' di cose sul canale ragazzi I video che arrivano alle stelle, proprio superano addirittura gli iscritti E i video invece che sono un po' più bassi Comunque, non vi preoccupate tanto, alla fine salgono tutti i video di visualizzazione Non mi sto mica a lamentare E ragazzi, avete notato che ho aperto un nuovo format Che si chiama Idee Personale Dove tratto tutte le mie idee ragazzi Che potranno essere sia cose che vi piacciono Sia cose che vanno contro le vostre cose che vi piacciono E magari vi potrebbero anche far ingrazzare E farvi lasciare un dislike al posto del like Però alla fine ragazzi, su Youtube c'è la libertà di parola Non è che è un video brutto, chissà che No, io dico sono le mie idee personali Poi a chi piace piace, a chi non piace non piace Quindi ragazzi, magari andate a vedere quel video di idee personali Il primo episodio è già andato in onda Sul mio canale E ragazzi, e poi ci saranno ovviamente altri episodi Dopo quello, tratterò ogni volta una cosa diversa Forse magari ogni due settimane caricherò Un video di quelli Quindi ragazzi, niente, lasciatemi i commenti qui sotto Le domande che volete farmi per il prossimo TheGammer800 e il tempo di risposte Quindi ragazzi, niente Commentate Lasciate un like se volete Condividete Iscrivetevi se non siete iscritti Alla prossima